Ciao, sono Stefano Macri e sono autore del libro Benvenuta Felicità e formatore certificato in Scienza del Sé. Oggi voglio parlarti di priorità. Spesso quando organizziamo la nostra agenda settimanale o le attività che dobbiamo svolgere durante il giorno, le andiamo a riportare secondo quelle che possono essere le priorità. Ma cosa sono le priorità? Sono quelle cose importanti, quelle cose che possono essere urgenti o addirittura indispensabili per noi o per la nostra vita, e così come altre cose che poi possono essere anche necessarie da portare avanti. Però ecco, la confusione magari si può fare nel momento in cui quelle cose che riteniamo urgenti in realtà non sono urgenti per noi, ma sono urgenti per qualcun altro e quindi possono essere urgenti per un nostro collega, per il datore di lavoro oppure per un familiare. E cosa succede? Succede che nel momento in cui dobbiamo portare avanti qualcosa di urgente che non riguarda noi e ce ne rendiamo conto solo dopo. Ecco che lì iniziamo ad entrare in una fase di stress, iniziamo a perdere energie perché ci richiede molto energia lo stress, e iniziamo anche a perdere del tempo. Questo ci porta poi a renderci conto che quella cosa che invece era importante per noi l'abbiamo tralasciata. Ed ecco che entriamo di nuovo in un loop di cose urgenti da fare questa volta per noi. Però siamo entrati magari in una fase di frustrazione e lì iniziamo a perdere gli stimoli per fare qualcosa. Addirittura cerchiamo piacere e per cercare piacere dove finiamo? Finiamo nella distrazione. E qual è oggi il miglior modo per distrarsi? I social. Quindi con qualche minuto vado su Facebook, vado su Google, insomma su Instagram e magari mi perdo quel qualche minuto proprio per portare piacere. In realtà poi magari possono diventare anche delle ore. Allora un consiglio che posso darti è quindi il modo per incoraggiarti le prossime volte a fare qualcosa magari che ti piace meno ma che è importante per te, ecco che può essere, può venire, può essere d'aiuto un premio oppure la gratificazione. E quello che faccio io ad esempio è proprio gratificarmi e premiarmi quando riesco a fare qualcosa, così come questi video che sto cercando di programmare una volta al giorno, ecco che sono impegnativi per me, però mi portano poi gratificazione e so anche come premiarmi naturalmente. Perché? Perché poi la prossima volta la nostra mente si ricorderà che a fine di quel impegno, di quel sacrificio c'è un premio e c'è una gratificazione. Un po' come il cagnolino quando ci dà la zampa e noi gli diamo il biscotto. È un esempio, è un paragone simpatico però ti assicuro rimarrà nella tua mente. E quindi ecco, ricordiamoci di questo, un premio è la gratificazione, festeggiare anche quando otteniamo piccoli risultati. Ci vediamo al prossimo video, ciao! 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 Ciao!